Grossa operazione antidroga della Polizia di Stato tra Calabria, Lombardia ed Emilia Romagna, coordinata dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. In totale sono 22 le persone arrestate per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. L'operazione trae origine dalle attività investigative condotte dalla sezione antidroga della squadra mobile e dal commissariato di Condofuri dal 2009 fino al 2011, grazie ad una serie di attività operative di vigilanza ed appostamento, presidi tecnologici, sofisticate intercettazioni ambientali e telefoniche. L'accusa è a vario titolo di associazione per delinquere, traffico di sostanze stupefacenti, quali cocaina ed eroina, vendita, detenzione, trasporto, eccessione illecita delle stesse. In particolare per Mandalari Rocco e Canaia Marildo l'accusa è di aver causato dalla morte di Negro Mario per overdose da oppiacei, come conseguenza non voluta del reato di cessione di sostanze stupefacenti. A Canaia Marildo è contestato anche il reato di danneggiamento. Le investigazioni della Polizia di Stato hanno consentito di accertare l'esistenza di un ingente traffico di sostanze stupefacenti riconducibile ad un'articolata associazione criminale con base operativa Melito Portosalvo e con rete di distribuzione estesa dal versante ionico alla città di Reggio Calabria fino a Villa San Giovanni. Riferimento dell'intera organizzazione era rappresentato da Mandalari, Camai, Gerardo e Damarino che agendo in perfetta simbiosi come soggetto unitario piazzavano sul mercato diverse partite di stupefacenti. Ancorché distretto in carcere in forza di altre operazioni di polizia, il Marino continuava ad operare nel settore del narcotraffico attraverso la moglie, Gerardo Caterina. Al fine di limitare i controlli delle forze dell'ordine, gli spacciatori stabilivano preventivamente con gli acquirenti luoghi di incontro e quantitativi delle cessioni di sostanza stupefacente. Quello che a prima vista poteva sembrare la somma di episodi di spaccio isolati e non collegati tra loro emergerà in realtà come un collaudo e un ben funzionante meccanismo di approvvigionamento e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, cocaina ed eroina.